Un posto al sole, anticipazioni al maggio, Clara si trasferisce da Rosa. Le nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 5 maggio vedranno molti cambiamenti per i protagonisti. Secondo le anticipazioni Roberto partirà con Lara per curare la malattia di Tommaso e Marino sarà sempre più angosciata. Le cose non andranno meglio per Franco e Angela che saranno a un passo dalla separazione. Mentre Clara si trasferirà da Rosa dicendo addio per sempre ad Alberto. Le trame di Un posto al sole si fanno sempre più avvincenti e presto i fan della soppartenopea vedranno Roberto sempre più preoccupato per i problemi di salute di Tommaso. Marina, invece, continuerà a pensare che dietro a tutto ci sia lo zampino di Lara e non tollererà la prensione di suo marito.